Questa minore invece è un intervallo di consonanza non perfetta, un po' come un intervallo di terza, di terza, maggiore o terza minore, un intervallo di consonanza non perfetta, genera un minimo di dissonanza e parte da Do, Do, Do diesis, Re, Re diesis, Mi, Fa, Fa diesis, Sol, Sol diesis. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gradini e questo è l'intervallo di seconda, minore, l'intervallo di seconda è minore, l'intervallo appunto di sesta minore, sesta minore, o di quinta aumentata, è un intervallo che senti com'è? Ha una minima tensione, un po' di più secondo me rispetto all'intervallo di terza e di maggiore minore, possiede una tensione maggiore secondo me, le note vivono di più tra di loro, però è minima sempre. E questo intervallo cosa porta? Questo intervallo di sesta minore, un esempio classico è il brano 1492, l'entrata, l'entrata è fatta in una scena minore e fa Du, 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 du Grazie a tutti.